Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte. Ben trovati, mi chiamo Claudia Biamonti, sono un'insegnante di scuola primaria, dottoressa in psicologia e membro del consiglio direttivo di F94.0, Associazione Mutismo Selettivo e Disturbi d'Ansia. Il mutismo selettivo è un disturbo che colpisce prevalentemente i bambini, si manifesta con il principale disturbo e sintomo che è il silenzio di questi bambini in particolari contesti, uno o più contesti. Di solito questo contesto è la scuola, sono bambini fragili, molto sensibili, che in casa spesso parlano molto a ruota libera, ma in questi contesti particolari non riescono ad esprimersi verbalmente. E' importante riuscire a cogliere questo disturbo, a proteggere questi bambini in modo che si rassicurino. Quindi l'associazione F94.0 si prefigge come obiettivo proprio quello di accogliere i genitori in modo che possano prendere consapevolezza di quali sono i passi da fare per la risoluzione del disturbo. Proprio perché il mutismo selettivo è transitorio. I genitori vanno rassicurati soprattutto su questo. La strada da intraprendere è quella di affidarsi a specialisti, specialisti formati e l'associazione F94.0 può procurare questi contatti con gli specialisti che collaborano con noi. E' sorta proprio grazie a famiglie e genitori che erano stati in qualche modo coinvolti dal disturbo ed è a servizio dei genitori. E' molto importante anche fare rete con la scuola, perché la scuola innanzitutto è il contesto dove quasi sempre si manifesta il disturbo. In più sono proprio gli insegnanti che per primi informano le famiglie sulla presenza del disturbo, perché sono gli insegnanti che si accorgono che i bambini a scuola non riescono a parlare. Gli insegnanti vanno a loro volta formati per distinguere bene tra il disturbo di mutismo selettivo e magari una particolare timidezza o ancora il disturbo oppositivo provocatorio. Che cosa fa l'associazione F94.0? Mette a disposizione una serie di servizi. Organizza seminari e convegni, uno sportello informativo gratuito per genitori e per insegnanti, dei percorsi formativi sul mutismo selettivo e ha un centro di documentazione che mette a disposizione con articoli scientifici, monografie, aggiornato tra l'altro in collaborazione con l'Università di Torino. Da un po' di tempo organizziamo anche dei laboratori psicoeducativi anche all'interno del progetto Crescere in Città finanziato dal Comune di Torino. È molto importante che questi bambini vengano protetti, perché l'autostima è fondamentale, è alla base di un sano sviluppo del bambino ed è alla base anche della forza che il bambino può mettere per superare il proprio mutismo selettivo. Potete contattarci consultando anche il nostro sito mutismoselettivo.it e potete chiedere i servizi di cui parlavo prima. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Siamo con Roberto Sardo, presidente dell'AMMIL del Piemonte, per parlare delle attività dell'Associazione Nazionale Fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che quest'anno celebra il suo tantesimo anniversario dalla Fondazione. Ci parla di questa lunga vita dell'Associazione e di quante attività, di cosa svolge? Allora, l'AMMIL è nata infatti il 19 settembre 1943 e aveva lo scopo, e ancora oggi lo scopo, di aiutare le vittime del lavoro ad avere la più adeguata assistenza da parte dell'INAIN ed il giusto riconoscimento dei danni riportati a causa di un infortunio oppure di una malattia professionale. Ad oggi l'Associazione vanta 270.000 iscritti, tra invalidi del lavoro, lavoratori che hanno contratto una malattia professionale e familiari di caduti sul lavoro. E da sempre cerchiamo di offrire conforto e assistenza attraverso le sedi associative che sono presenti in tutta Italia e in tutte le province del Piemonte. Inoltre, in questi 80 anni il mondo del lavoro è notevolmente cambiato e anche la legislazione in materia di risarcimento si è molto evoluta e quindi è necessario seguire sempre con molta attenzione ogni caso perché i problemi sono davvero tanti e diversi. Ad esempio c'è chi come me riporta mutilazioni che richiedono protesi oppure ausigli, ma troviamo anche soggetti che invece necessitano di cure che nel tempo cambiano per l'evoluzione della malattia acquisita per causa appunto di un incidente sul lavoro. E noi non vogliamo che queste persone si sentano sole oppure abbandonate, quindi le assistiamo sempre. Presidente, la vicinanza dell'associazione è sempre molto importante anche per le famiglie su cui ricadono le problematiche all'indomani di un infortunio sul lavoro, quindi non solo per chi come lei direttamente ha vissuto il dramma di un incidente, ma anche proprio per le persone che sono care e sono intorno. Ma queste storie sono un prezioso momento di formazione, di sensibilizzazione, proprio appunto per i testimonial che con l'associazione portano le loro storie nelle scuole e nelle aziende. Di cosa si tratta? Allora, uno dei principali punti di debolezza della legge 81 del 2008, che ha completamente rivisto le norme sulla prevenzione e che prevede una formazione burocratica e nozionistica, si è rivelata in questi anni spesso insufficiente o addirittura inefficace. Per questo riteniamo oggi più che mai importante proseguire nell'impegno che ormai portiamo avanti da più di 25 anni, promuovendo numerose iniziative che sono volte a diffondere la sicurezza in ambito lavorativo e nelle scuole, portando appunto le nostre testimonianze. Infatti, grazie ai numerosi volontari dell'associazione, vediamo che negli incontri, nelle scuole e nelle aziende, le nostre storie sono uno strumento di sensibilizzazione straordinaria perché hanno un impatto emotivo più potente di un qualsiasi altro tipo di formazione. Per questo ci stiamo adoperando presso le istituzioni affinché ci vengano riconosciuti i nostri interventi che sono capaci di arricchire i programmi che sono già previsti, i programmi formativi che sono già previsti dalla legge. Però noi riusciamo a dare un coinvolgimento emozionale che lascia negli studenti e nei lavoratori un segno indelebile e una maggiore consapevolezza dei rischi negli ambienti lavorativi. E Presidente, chi ha voglia di organizzare queste iniziative dunque cosa può fare? Ma il fatto che la nostra associazione comunque sia presente in tutte le province del Piemonte e quindi in tutto il resto dell'Italia ci consente di recarci un po' ovunque. Quindi noi ci rivolgiamo alle scuole di ogni ordine, di ogni grado e alle aziende più o meno grandi affinché ci contattino, facciano la nostra conoscenza per meglio avviare questi incontri che sono veramente toccanti e sono sicuro che siano molto efficaci. Grazie Presidente Sarto e buon lavoro. Benvenuti a tutti. Io mi chiamo Maria Vittoria Colli, faccio l'avvocato e sono Vice Presidente dell'AIAF Piemonte Valle d'Aosta Antonio Genisio. Oggi vi parlerò di un articolo del Codice Civile che è stato riformato a seguito della riforma Cartabia con la legge 206 2021 e la riforma entrata in vigore il 22 giugno 2022. Si tratta dell'articolo 403, articolo che è posto a tutela e difesa dei minori. Minori che si trovano in una situazione di abbandono, di deprivazione fisica e morale, esposti a pregiudizio e pericolo. Per cui gli esercenti, la qualifica di ufficiali giudiziari o ad esempio gli insegnanti, gli educatori, quelli che vengono a contatto con dei minori in situazioni di pericolo, devono fare una segnalazione e porre in sicurezza al minore. La segnalazione va fatta entro 24 ore al Tribunale per i minorenni e deve essere corredata di una documentazione che spiega i motivi per cui il minore si trovava in una situazione di pregiudizio e doveva ad esempio essere allontanato dalla famiglia. L'importante è che la segnalazione avvenga nelle 24 ore al Tribunale per i minorenni dove è residente il minorenne. Questa è la fase amministrativa. Che cosa succede? Che viene investito della procedura il pubblico ministero che ha 72 ore per fare delle indagini, richiedere dei documenti e poi disporre o la revoca del provvedimento oppure la convalida. Si usa questo termine convalida che è un termine penalistico e per fare questa convalida deve rivolgersi al Presidente del Tribunale o uno delegato che fissi un'udienza. Udienza in cui devono comparire i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Deve essere nominato un curatore speciale del minore e viene fissata un'udienza in cui appunto devono comparire i genitori, il curatore speciale e ove il minore abbia più di 12 anni deve essere ascoltato o direttamente dal giudice oppure dal giudice insieme a una persona esperta. Il Tribunale poi provvede o revocando il provvedimento oppure disponendo che questo provvedimento abbia esecuzione oppure può essere revocato. Ho dimenticato di dire che la prima segnalazione fatta ad esempio dai medici, dagli educatori, dal personale scolastico deve essere fatta oralmente. È il primo caso in cui il codice parla di segnalazione fatta oralmente. Perché oralmente? Perché deve essere molto immediata e per cui appunto può capitare anche in giorni festivi in cui una mail magari non verrebbe letta. Quindi l'importante è la tempestività della segnalazione. Fatto ciò c'è un provvedimento che deve essere notificato a tutte le persone interessate, per cui ai genitori, al curatore speciale del minore. Questi hanno dieci giorni per fare appello e fanno appello e poi deve essere fissato entro 60 giorni l'udienza per cui deve essere discusso l'appello. Importante è che vengano rispettati i tempi fissati perché altrimenti il provvedimento decade. Quindi 24 ore, 72 ore del pubblico ministero e 48 ore della fissazione dell'udienza. Se non vengono rispettati questi tempi il tribunale può comunque prendere dei provvedimenti ad esempio ablativi della responsabilità genitoriale a protezione del minore. Ben trovati a tutti e grazie anche per questa possibilità di presentare nuovamente le attività e le iniziative della nostra associazione. Oggi parleremo della Privacy on the road, on the beach. Siamo giunti alla terza edizione di questo evento, di questa festa dedicata alla protezione dati personali. Quest'anno siamo particolarmente contenti perché in questa edizione i veri protagonisti sono stati i giovani, i ragazzi, proprio coloro che hanno partecipato durante l'anno scolastico al progetto degli ambasciatori della Privacy e della sicurezza informatica. Sono stati proprio i ragazzi che nella splendida location del bagno 49-50 di Rimini hanno parlato proprio dell'identità violata, il forto di identità su internet, hanno parlato di bullismo, di cyberbullismo. Quindi sono stati proprio loro a spiegare quella che è stata la loro esperienza proprio all'interno del progetto degli ambasciatori della Privacy e della sicurezza informatica. Quindi con grande piacere le abbiamo ascoltate, abbiamo avuto modo di percepire quello che è il loro entusiasmo e anche tutto ciò che hanno da dire, quindi su queste tematiche importanti che riguardano proprio la loro sfera più personale e anche più intima. E a questo progetto ha partecipato anche la nostra socia, la nostra referente di Cuneo, Loredana Sardo, a cui lascio la parola perché ci spieghi lei che cosa sarà invece la seconda edizione del progetto degli ambasciatori della Privacy e della sicurezza informatica. Bentrovati! Oggi vi parlo del programma degli ambasciatori privacy nella seconda edizione 23-24. Questo programma è rivolto a tutte le scuole, a tutti i componenti delle scuole, dei dirigenti scolastici ai ragazzi. Faremo una serie di incontri che andranno da ottobre a maggio del 2024 dove parleremo, affronteremo anche degli ultimi argomenti, ad esempio l'intelligenza artificiale, il cyberbullismo e anche la violenza che può essere fatta con le parole, senza mai dimenticare quello che è importante, la conoscenza minima della normativa sulla protezione dei dati. Questo ci serve, il nostro scopo, il nostro obiettivo è quello di portare nelle scuole la protezione dei dati per aumentare la consapevolezza dell'importanza di proteggere le proprie informazioni. Al termine di questo programma, che prevederà anche un'attività ludica teatrale e la possibilità, se riusciamo, a fare un'opera editoriale dove raccoglieremo tutte le opere dei ragazzi. A maggio del prossimo anno ci sarà la possibilità di parlare di quanto si è fatto di tutto il programma presso la Privacy on the Road a Rimini. Questo sarà una grande opportunità perché i ragazzi potranno esplicitare, raccontare la loro esperienza e, se riusciamo a portare avanti anche l'opera teatrale, a poter fare questa breve rappresentazione. Bene, per quanto riguarda questo programma lascio la parola alla nostra Presidente che vi illustrerà ulteriori dettagli. Grazie Loredana e nel salutarvi vi ricordo che potete visualizzare tutti quelli che sono gli ambasciatori della Privacy della Sicurezza Informatica che quest'anno hanno conseguito il titolo, sono presenti nel registro che è stato pubblicato sul nostro sito all'indirizzo www.associazionedirittiprivacy.it. Ma vorrei altresì lanciare un appello non solo ai dirigenti scolastici ma anche ai genitori, ai docenti, agli educatori, ai collaboratori scolastici, anche al personale amministrativo della scuola che il prossimo anno si iscrivano e possono partecipare attivamente al nostro progetto degli ambasciatori della Privacy. Noi siamo aperti a tutte le collaborazioni, quindi non solo chi desidera partecipare si può iscrivere a questo progetto che ricordiamo è totalmente gratuito ma può fornirci anche dei contributi in termini di contenuti, idee e proposte. Quindi grazie a tutti e buone cose. Salve, mi chiamo Giuseppe Piscitelli, sono un educatore professionale e lavoro per Fondazione Anfas Torino Dignitade. Anfas è un'associazione nazionale di famiglie e di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo che nasce a Roma nel 1958 ed è già attiva con la sede di Torino l'anno seguente. Anfas Torino sul territorio cittadino gestisce diversi servizi ma in questo intervento mi focalizzerò sui centri diurni per persone con disabilità. Gestiamo due tipi di servizi diurni a Torino, una RAF di tipo A, RAF sta per Residenza Assistenziale flessibile che si trova in via Fiesole 15 ed ha interventi a maggior intensità educativa. E poi una RAF di tipo B in via De Santis 12 con interventi a maggior intensità assistenziale. Per poter accedere ai nostri servizi diurni bisogna avere più di 14 anni, quindi ragazzi che hanno terminato o che stanno terminando il loro percorso di studi, oppure adulti che per vari motivi hanno necessità di cambiare il servizio che stanno frequentando. Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 per tutti i mesi dell'anno. Per poter accedere all'interno del servizio bisogna fare richiesta specifica ai servizi sociali di circoscrizione. Questa richiesta verrà inoltrata alla Commissione UMVD, che è una commissione formata da specialisti di ambito sanitario ed educativo. Una volta ottenuto il benestare dalla Commissione si potrà prendere contatto con i nostri servizi e concordare un colloquio conoscitivo per poi eventualmente finalizzarlo all'inserimento e alla presa in carico totale della persona. All'interno dei centri giorni lavorano diverse figure, c'è l'educatore professionale che si occupa della progettazione educativa, l'operatore sociosanitario che si occupa della progettazione assistenziale e ci avvaliamo della collaborazione di diverse altre figure come il consulente medico, il consulente infermieristico e altre tipologie di figure che ci aiutano nell'organizzazione delle attività che proponiamo. Il centro di urno per le famiglie è una grande opportunità, oltre che un sollievo. Prendersi cura delle persone disabili è molto faticoso ed è per questo motivo che affianchiamo le famiglie con un percorso integrativo, un percorso complementare che vada a lavorare su tutti gli aspetti della quotidianità della persona disabile, che vanno dal benessere emotivo, a quello fisico, a tutti gli elementi di inclusione sociale e tutela dei diritti. Il nostro percorso è costituito di tanti interventi a livello assistenziale, a livello educativo, anche a livello sanitario e accompagniamo la famiglia in questo affiancandola durante il corso di tutto l'anno e progettando con loro parte del percorso che andranno a svolgere i propri cari. All'interno dei servizi abbiamo una routine quotidiana molto collaudata, lavoriamo in sottogruppi. Questo ci permette di avere degli ambienti più confortevoli e maggiormente gestibili. Siamo provvisti di tutti gli ausili e strumenti a norma di legge, ad esempio i solleva persone per le persone con disabilità motoria e tutti i dispositivi di protezione individuale per la tutela della salute di tutti quanti. Proponiamo un ampio ventaglio di attività che partono da quelle riabilitative come la fisioterapia, e il massaggio, a quelle olistiche come il reiki, lo yoga, oppure attività in acqua calda, laboratori espressivi e creativi di ogni genere, anche il teatro ad esempio. Siamo molto attivi sui canali social e sempre alla ricerca di inclusione sociale. Per i nostri ragazzi questo è importante per essere cittadini che vivono il territorio a pieno. Ci auguriamo di poter essere contattati da più persone possibili perché vogliamo ampliare la rete delle nostre conoscenze. Vi ringrazio per l'attenzione. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.